Molte persone ambiscono lavorare con noi, ma i nostri criteri di sezione, di selezione, sono molto rigidi. La società è piena di evasi di prigione, esibizionisti compulsivi, di maniaci, di serial killer. Un sorriso rassicurante di uno dei candidati durante un colloquio può trasformarsi nei denti di un lupo feroce. La Midnight Factory assume soltanto persone disposte a sacrificare anima e corpo per portare a termine il suo lavoro.